allora scusate perché questa tipologia di promo è una cazzata però vabbè dai ogni tanto lo fa anche il pump 69 quindi se a 100.000 like della mia ultima foto ci arriviamo domani vi svelo copertina e uscita dell'album mare vedi che a 100.000 like ti faccio uscire la foto compa che problema c'è 100.000 tanto ci arrivava comunque in uno o due giorni così la facciamo arrivare prima vedi che fuori ti svegliamo la copertina che problema c'è per la foto e per la foto che problema c'è arriviamo a 100.000 mi svela la copertina me la fa vedere subito io lo dico a tutti gli amici di cagliari di sassari di ulbia io lo vado a dire a tutti i soci no ma poi la spocchia con cui si presentano questi 100.000 ma chi cazzo sei ue testina retromarcia vula bassi schiva i sassi perché con me non hai capito il cazzo io like non te lo metto oe renattino pischia la fringuella ovemo per 100.000 like che problema c'è che poi dicono che a giro va a sentir che te ne metto tre io faccio tre account ti metto tre like belli se ognuno di noi fa così ci arrivi domani vuoi vedere faccio vedere sta copertina dai a rega sta uscire il disco de tedua e mi fratello tedua rega non potete capire stanno a caricare l'olimpico c'è sta tutta la folla con sa pietrini per questo evento non hai capito a firenze garbare garba garbare garba non poco si ascoltano gli altri si si va a mare la musica di tedua ma pisa lucca non c'è rivalità invece pensi che noi non l'ascoltiamo che a noi non piace tedua credi che noi non scarichiamo che 100 mila ma è una cosa incredibile e non si capisce più niente se non esce la copertina noi realtà che aspettiamo pota se ci fai vedere la copertina noi poi siamo anche più felici ci fai ricatti centomila a noi sai che con noi non si fa così pota fai bravo dai prendi degli schiaffoni vecchio quando viene ospitiamo a bologna ma è un ragazzo cizionale sa sa arriviamo a centomila cazzo cazzo ve lo giuro ve lo prometto che vi faccio vedere la copertina bella Grazie a tutti